Sono di Roma e ho studiato prima in Inghilterra, poi arte, poi ho studiato filosofia in Italia, poi sono sempre partita molto, quindi non ho una formazione accademica. Sono tornata a Roma dopo vari spostamenti tra Parigi, la Sicilia, New York, l'India. Ho avuto uno studio per tre anni e dopodiché mi ha servito molto per portare avanti la ricerca pittorica che nel frattempo andava avanti parallela a lavori più performativi. Sono stata un anno in Francia per una residenza, poi due anni in Olanda per un'altra residenza alla Rex Accademie, poi in Corea, poi è stato un po' un susseguirsi di residenze in varie parti del mondo negli ultimi anni e adesso mi sono appena trasferita a Londra da 5-6 mesi dove spero di restare per un po' di tempo. Quello che mi interessava di più era il linguaggio, è ed è. Il limite del linguaggio, quindi cercare di portare alle estreme conseguenze i vari linguaggi che mano in mano mi trovavo ad esplorare, quindi appunto dalla scrittura alla performance alla pittura. Questo appunto succedeva in qualche modo nello studio in primo luogo tramite tecniche e procedimenti che io usavo e che in qualche modo aggiungevano una dimensione performativa al lavoro, nel senso che io usavo spesso i tacchi alti oppure mi bendavo piuttosto che usavo dei lunghi bastoni per distanziarmi dal quadro. Ultimamente ho iniziato a trasportare nella performance dal vivo, nelle azioni dal vivo, coreografie, vario tipo di situazioni, quello che facevo nello studio per cui ho iniziato a coinvolgere altre persone a cui fornisco delle istruzioni che corrispondono alla trascrizione del mio processo pittorico che però nasce su una base performativa, quindi il riporto dal vivo e nella performance quello che già facevo nello studio, integrandolo di volta in volta con elementi provenienti da ricerche che portavo avanti. Quindi appunto poi le performance al vivo sono come una traduzione del mio processo pittorico unita ad altre ricerche che porto avanti parallelamente. Questa residenza mi sembrava interessante, fondamentalmente per me è stata un'attrazione verso l'artista, cioè verso Maria Morganti di cui mi interessa il lavoro e mi sembra interessante anche sì per la situazione che si crea con gli altri artisti. Ho sempre cercato appunto un non codice, qualcosa che fosse impossibile da codificare e quindi il diario e anche il mio lavoro pittorico in qualche modo può essere visto come una forma di scrittura. Poi ora ragionando più filologicamente sull'idea di diario è più complesso il discorso perché c'è questo elemento del tempo che appunto per me non è mai stato cronologico e è sempre stato stratificato. Grazie